ciao a tutti oggi faccio un video vlog e sto portando il mio cagnolino fuori Robby e dopo vado dall'amica mia Lady Niles Greta e andiamo a fare un giro al centro commerciale così tanto che lei deve comprare deve acquistare qualcosa non ho capito bene perché abbiamo parlato velocemente al telefono e niente mi è successo una cosa brutta praticamente una cosa brutta insomma una cosa un po spiacevole perché i vestiti che avevo comprato quelli da 50 centesimi tre magliette purtroppo mi si sono macchiate durante il lavaggio e niente e adesso sono praticamente diventate mezza rosa ho comprato la coloreria quella della Grey per farla ritornare insomma ormai non le posso far più tornare al colore originale e mi tocca a me farli diventare tutti neri però so da una parte non è un male perché alla fine quel colore non è che mi attizzava tantissimo e quindi sto contenta guardate il cagnolino mio se ce lo faccio vedere guardate quanto è bello Robby amore amore mio o mio cucciolotto oggi mi sono messa il rossetto quello della Kiko quello rosso scarlatto è bellissimo guardate che labbra che mi fa e ho fatto questo trucco particolare insomma semplice dato che non mi volevo truccare tantissimo perché devo fare semplicemente un giro con l'amica mia allora ho detto vabbè faccio un trucco un po più semplice ma anche un po più particolare ho fatto semplicemente delle alette ai lati degli occhi così tanto per fare qualcosa di nuovo insomma oddio qui urlano tutti andiamo amore e niente adesso tingerò anche due tute cioè avevo due tutine bianche io il bianco purtroppo non lo metto e quindi mi tocca mi tocca colorare dato che mi tocca colorare quelle ho detto vabbè coloro tutto insieme almeno ho anche delle tutine nere insomma perché a me mi piacciono molto le tutine e poi mia sorella è tornata a cattolica in Emilia Romagna e niente poi c'è una novità vi farò il video dei regali di Natale che non sono riuscita a fare perché ho avuto un po' di ho avuto un po' da fare a casa e adesso tra un po' prendo l'autobus e quindi ci vediamo dopo eccoci allora oggi mi sono vestita così ho i pantaloni niente ma sto a fare un video c'è mia mamma che mi dice che stai a parlare allora mi sono messo questi pantaloni qua quelli che vi ho fatto vedere sul video e vabbè ho la giacca poi sotto ho messo quella maglietta bianca traforata e vabbè è una maglietta che c'avevo già nera sopra e la borsa questa qua e volevo raccontarvi un po' come è andata quando è venuto mio fratello praticamente dovevo andare sono andata a H&M accompagnato lui poi lui ovviamente è andato a casa e niente sono andata a H&M e ho guardato in giro ma non mi è piaciuto per niente c'è già cose viste riviste poi vestiti non so perché non mi piacevano sono arrivata lì poi ho fatto il giro insomma di tutto il centro commerciale era da un pezzo che non ci andavo e c'erano cose carine però non erano non erano granché non è per il prezzo perché alla fine il prezzo H&M ha i prezzi buoni insomma non costa più di tanto però erano sempre cose viste non mi piaceva insomma dopo invece sono andata ho aspettato sono andata alla bancarella e ho comprato quello che avete visto insomma sul video e adesso sto cercando di risistemare la postazione make up ma ancora è lunga perché c'ho il calorifero e il calorifero non posso farci niente insomma saluta questa è la mia mamma buon anno per tutti che spero che danno l'uomo tutto meglio ci siamo incontrati nella fermata dell'autobus lei va al lavoro e io mi ci vado da Greta speriamo bene dai andiamo avanti spero perché mamma spera sempre in bene lei non è una mamma lei è un angelo punto dico solo questo eccoci questa è verità Greta Lady 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 sono io da Lady siamo al centro commerciale stiamo andando stiamo con doppia voce perché lei fa il video io faccio il video facciamo il video tutte e due insieme praticamente primo video di una lunga serie ecco magari non vedo l'ora io invece no vado a guardare anche io qualcosa così volevo trovare un pantalone lo troverò siamo entrati ci siamo stati anche stamattina qui con mia mamma a fare la spesa adesso è l'amica mia se riesco a piccalla dove è dove è ecco la va Greta sta parlando con il commesso caluta ci vediamo dopo adesso stiamo andando da finichi insieme siamo collegate perché stiamo facendo ognuno il video guardate che fissicato che meraviglia la collana guardate la collana stupenda Natalizio proprio questi qui quelli che vanno qua sì mezzo dito i middling quanto costeranno? io volevo sapere se c'erano gli sconti no non c'erano gli sconti però qui manca la pietra sì ma questo non c'erano gli sconti va? tu? è vero che costano? guarda le borse guardate che meraviglia le borse con le frangi è piaciuta guarda tanto ma a morire guarda piaciuta tantissimo è il mio regno praticamente guarda questa è figata questa questa è per te c'è di simile me pare no 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 è stato migliato bello queste grandi anche qui io li ho portato ah beh adesso è bello bellissimo questa la dovevo far vedere ma tutte e due belle questa viene a 25 immagino questa a 19 euro questa a 20 bella eccoci qua siamo usciti adesso da Pinti questo è Pinti e adesso andiamo un attimo a Piazza Italia si volevo andare un attimo a Piazza Italia per vedere se c'era qualcosa di nuovo che di solito la Piazza Italia ci trovo qualcosa di carino adesso vediamo se trovo i pantaloni oppure qualcosa qualcosa tipo anche anche di bigiotteria perché che so volevo vedere qualcosa di solito c'è sempre qualcosa di nuovo e quindi vado andiamo a vedere lì è che sto cercando un tipo di pantalone molto volevo legante nero con tipo qualche inserto qualcosa di nuovo dottorché i pantaloni jeans quelli jeans i jeans non li posso mettere perché non mi stanno allora trovo sempre il fuso e vedo se mi bocca ne ho no insomma ci vediamo dopo eccoci qua siamo usciti abbiamo finito il giro e abbiamo l'amica mia ha comprato un piercing per il naso io invece non ho resistito ho comprato un braccialetto con tanti braccialetti dopo ve lo farò vedere quando arrivo a casa perché adesso non ci se la fa farlo vedere adesso vado a casa e anche l'amica mia va a casa perché è ora tutte e due insomma ad andare e niente io sto sentendo quello che dice l'amica mia un attimo ne sto impappinare pure io vado a casa faccio qualche faccenda e niente ho visto tante cose bellissime c'è quel collane meravigliose i braccialetti stupende attenzione alla macchina ci accoppano c'è un po' di vantaggio così posso parlare anch'io ah ok c'erano queste collane stupende però ho optato per il braccialetto perché le collane veramente ce ne sono tantissime ho detto vabbè rosa è un braccialetto rosa che è multifilo praticamente ha un braccialetto con tanti braccialetti solo che purtroppo essendo scontati alcuni braccialetti hanno un qualche difettuccio però cose da niente infatti il mio grazie a Dio sono stata fortunata non ce l'ha neanche uno di difetto e sto contenta un bel po' perché a trovarlo come quello è difficile e a me mi serviva infatti questo braccialetto con tutti con tanti insomma ho preso quanti erano Gre? quanti erano i braccialetti? sei sei pezzi sei braccialetti e tre euro e qualcosa oh cavolo buttali via sono contentissima adesso vi faccio salutare anche da Lady Nails come dice lei che si dice io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao adesso siamo qui con Lady Nails Lady Nails perché lei mi sta insegnando come si dice il nome io dico sempre Lady Nails vabbè lei rimane più semplice vabbè lei rimane più semplice dovete vedere il suo video il vlog che abbiamo fatto oggi insieme e anche il video delle Nail Art perché dovrebbero essere belle devo vederle anche io sinceramente però non vedo l'ora di vedere quindi se volete passate al mio canale Lady Nails esatto e passate anche sul mio perché ci saranno come vi ho detto ci saranno delle novità domani caricherò un nuovo video ve lo dico in anticipo no niente c'ho qualcosa domani caricherò un altro video e vedrete insomma le novità come vi ho detto stamattina il video dei regali di Natale perché ovviamente non sono riuscita a farlo saluta un po' ciao a tutti ciao siamo stati benissimo oggi pomeriggio è stato il primo vlog insieme dopo ce ne saranno altri cioè no tutti i tipi perché uno ha pressionato però quando ci capita di uscire la mattina tranquillita faremo altri video andiamo alle bancarelle e vi facciamo vedere un po' ancora insomma esatto esatto comunque siamo stati bene siamo stati bene insieme ciao ciao a tutti Greta ha comprato un piercing per il naso io invece ho comprato il braccialetto allora il video vlog è finito e spero che vi sia piaciuto scusate per le voci sovrapposte ma stavamo facendo l'amica mia stava usando il suo telefono io stavo usando il mio appunto per fare due vlog per metterlo uno nella sua pagina ognuno nel suo canale quindi abbiamo fatto un video vlog un po' così particolare spero che la mia voce si sente perché ovviamente viene sovrapposta da Lady Nails e quindi commentatemi se vi è piaciuto qualsiasi cosa vi è piaciuto dei siti che avete visto dei negozi fatemi sapere quello che vi è gustato di più insomma iscrivetevi siate molti perché mi fa molto piacere avere la vostra amicizia io vado a guardare molto spesso i canali delle mie iscritte perché mi piace un bel po' avere nuove idee nuove spunti insomma anche per altri video e niente questo è tutto io vi saluto un bacione ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti